Siamo nella campagna di Taurianova, quest'anno capitale della cultura italiana, ma anche luogo abituale, soprattutto nella sua periferia, di dimora di molti migranti che hanno trovato rifugio in queste baracche durante il soggiorno nel centro del Regino per essere impegnati per lo più in lavori, in agricoltura. Ma ad oggi qualcosa è cambiato, per dare più dignità a chi nell'ambito del progetto di accoglienza permetterà a molti di questi migranti di poter alloggiare i moduli abitativi che l'amministrazione comunale di Taurianova ha realizzato nel segno di quanto già accaduto a Rosarno. Un segno tangibile verso la piena accoglienza e anche una risposta al dilagante fenomeno del caporalato. Da qui l'attaglio del nastro del borgo sociale di Contrada Russo, realtà abitativa realizzata su di un terreno confiscato alla mafia. All'attaglio del nastro il prefetto di Reggio Calabria, dottoressa Clara Vaccaro. Questo è il secondo passo importante per il territorio. Il primo è stato, come voi sapete, Rosarno. Oggi siamo qui a Taurianova per smantellare quello che è stato un campo provvisorio sino adesso e passare a questa nuova struttura che sicuramente offre delle condizioni di vita molto più consone. È chiaro che è comunque anche questo probabilmente un passaggio perché poi il futuro dovrebbe essere quello della realizzazione anche con fondi comunitari, fondi PNRR che ci sono, di un housing sociale che consenta degli affitti a prezzi calmierati per tutti i lavoratori stagionali. Il problema è i lavoratori stagionali che nel 90% sono cittadini stranieri ma non è anche detto. Quindi il lavoratore stagionale ha molta più difficoltà a trovare un alloggio perché per periodi limitati. Quindi questo è un primo passaggio. Intanto smantelliamo quello che era provvisorio e cominciamo con questa nuova organizzazione responsabilizzando anche coloro che verranno ad abitarci sul fatto che è un bene comune, un bene che deve essere anche mantenuto, deve essere tutto regolamentato e poi in futuro vedremo con anche i fondi PNRR come si potrà evolvere le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali che per la piana di Gioia Tauro è un problema grosso. E' grande soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Teoria Nuova, Roy Biasi, che ha potuto evidenziare quando la collaborazione con le varie istituzioni, Regione Calabria compresa, possa dare frutti concreti. I nuovi moduli abitativi in tutto 20 sono stati realizzati con i fondi SU, PR e M.E. Questi moduli perfettamente accoglienti che ospiteranno i migranti saranno gestiti da Macramè, primario consorzio di cooperative sociali di solidarietà e poi chi vi abiterà dovrà provvedere anche ad una retta mensile a prezzi calmerati e quanto poi sostenuto dallo stesso primo cittadino di Teoria Nuova. Per noi oggi è una giornata che abbiamo atteso veramente per tanto tempo, abbiamo avuto delle difficoltà non legate alla nostra amministrazione diretta, c'è stato un problema, siamo in campagna di allaccio di energia elettrica, altrimenti saremmo qui già da un anno, però finalmente ce l'abbiamo fatta, i primi ragazzi si sono già trasferiti sostanzialmente, sono al lavoro, gli altri si trasferiranno questa sera, è veramente una giornata di festa per noi, smantelliamo una baraccopoli non dignitosa, sicuramente non decorosa per nessuno, né per chi ci abita né per chi sta e rappresenta la nostra comunità, finalmente poniamo fine grazie all'attività fatta dalla prefettura e nel prefetto in particolare che ci ha consentito di poter pervenire a quei fondi necessari per andare poi a ripulire tutto quello che oggi rappresenta quella baraccopoli che per anni è stato un riparo per i ragazzi che oggi già grazie al polo sociale hanno qui un punto di riferimento ma avranno anche degli uffici qui, ci saranno delle persone che si occuperanno di quelli che sono i loro bisogni primari ma ripeto il polo sociale è sempre un punto di riferimento come lo è stato per per ora, avranno la possibilità di regolarizzare la loro posizione anche anagrafica, avranno la possibilità di poter avere degli spazi comuni, c'è persino diciamo uno spazio dedicato alla moschea ma c'è uno spazio dedicato agli uffici, ai momenti diciamo di relax, c'è una lavanderia, c'è un campo sportivo, le loro abitazioni sono abitazioni che hanno un po' tutto, hanno la lavatrice, hanno i comfort, hanno il condizionatore, hanno i pannelli fotovoltaici anche per la produzione dell'energia, hanno le cucine, hanno le stanze da letto, hanno ognuno con la propria riservatezza e quindi abbiamo dato un primo passo dignitoso anche alla loro esistenza perché noi siamo contenti che questi ragazzi vengono qui per darci una mano che altrimenti sarebbe per molti imprenditori agricoli difficile mandare avanti le loro imprese, quindi sono una risorsa importante, è giusto che però loro rimangano in una condizione di perfetta legalità. Abbiamo un servizio di sorveglianza che naturalmente controllerà quelli che sono diciamo coloro i quali hanno aderito a quello che è un regolamento che è d'accordo diciamo con la prefettura, abbiamo fatto diciamo un po' in tutti i comuni stabilendo una quota sia pure simbolica diciamo di affitto mensile anche per responsabilizzare chi ci abita, anche perché l'abitazione non è un'abitazione diciamo di tipo definitivo, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto è il primo step per coloro i quali sono di passaggio ma il passo successivo ed è nel PNRR noi già diciamo dovremmo avere una premialità che si aggira sui 3 milioni e mezzo di euro, ci consentirà di andare a recuperare diciamo delle case ormai diroccate in centro, nell'ambito e nel tessuto urbano perché la vera integrazione dovrà farsi lì per coloro i quali vogliono portarsi la famiglia, per coloro i quali vogliono come dire stabilirsi in maniera permanente e quindi ci sarà nello step successivo oltre a questa riqualificazione di immobili e come diceva Sua Eccellenza a prezzi diciamo contenuti per tutti i lavoratori in agricoltura, cioè indipendentemente possono essere rumeni, possono essere africani ma possono essere anche italiani e quindi tutti coloro i quali avranno necessità diciamo di un alloggio e che lavorano in agricoltura avranno la possibilità attraverso naturalmente delle regole di poter usufruire degli alloggi ma abbiamo previsto in questo ulteriore bando anche un sistema molto importante di trasporti che collegherà i ragazzi al centro sociale ma anche ai principali posti di lavoro che sarà un trasporto promiscuo, promiscuo per favorire sempre quella integrazione tucur a 360 gradi che noi pensiamo ci debba essere altrimenti abbiamo fatto un altro ghetto e quindi non abbiamo risolto assolutamente nulla, questo è un posto diciamo di passaggio dove arrivano le persone diciamo che devono stare per la stagione, poi vanno da un'altra parte, poi magari ritornano pure, però questo è un posto di transito, la vera integrazione si realizza all'interno del tessuto urbano e con la convivenza civile con tutti i cittadini, osservando le regole del vivere civile e come è stato fatto con altre comunità, come è stato fatto qui egregiamente devo dire con la comunità marocchina che saluto e che ringrazio per il contributo che hanno dato in questi anni, loro mandano i figli a scuola ma mandano i figli all'università, si sono integrati benissimo, io ho fatto, anzi mercoledì ne ho un'altra, sto facendo tantissime cittadinanze, il che vuol dire che sono da più di 10 anni sul nostro territorio, do la cittadinanza al papà, alla mamma e poi di conseguenza diventano cittadini poi anche i ragazzi e sono veramente lacrime di emozione ogni volta che io conferisco la cittadinanza ed è bello vedere queste persone che si emozionano da diventare cittadini italiani perché noi li abbiamo accolti ma loro hanno meritato di vivere in collettività con tutti quanti noi perché hanno sposato il nostro modo di essere, hanno sposato le nostre tradizioni seppur nella diversità, noi li rispettiamo, sono venuti anche loro per cercare degli spazi per una moschea, abbiamo cercato di aiutarli, ognuno con le proprie tradizioni però ognuno nel rispetto diciamo di tutti gli altri. Un ulteriore passo in avanti verso quella integrazione tanto agognata nel passato è che qui per fortuna inizia a dare segni concreti come sostenuto dall'assessore all'immigrazione Maria Fedele. Beh diciamo che in una settimana portare a compimento due strutture importanti non soltanto per la società ma soprattutto dal punto di vista culturale è un passo importantissimo per Taurianova e oggi noi segniamo un'altra pagina importante della bellissima storia che stiamo scrivendo perché con questa apertura noi diamo la possibilità ai ragazzi che vivono nella baraccopoli di Contrada Russo di avere una vita più agiata e diciamo quantomeno civile per quanto è possibile prima di poter intraprendere il percorso all'interno invece della struttura cittadina perché ci teniamo a sottolineare che questa è una struttura soltanto temporanea e mi piace parlare di cultura anche in questo caso non soltanto perché siamo la capitale italiana del libro 2024 ma perché mi piacerebbe proprio parlare dell'immigrazione come cultura dell'accoglienza in quanto è necessario vedere la diversità come un punto di forza, un punto di confronto che ci permette di crescere e non più l'immigrato, anche questo termine mi piace poco, come un problema da risolvere o come soltanto una risorsa da sfruttare. L'immigrato al 100% deve entrare nel tessuto cittadino quando è regolare e può essere davvero un punto di forza per la città e per il territorio tutto. A conferma della bontà dell'iniziativa queste nuove abitazioni non resteranno lontane dalla vita cittadina perché saranno collegate con mezzi pubblici elettrici, con i luoghi di lavoro dei migranti, le campagne e il centro cittadino. A volte serve davvero poco per dare fiducia e dignità umana a chi è arrivato nella nostra terra in cerca di un lavoro o di una difficile coabitazione verso una non impossibile integrazione. E così dopo Rosarno ecco questa realtà a Teoria Noa per la soddisfazione anche del primo cittadino di Rosarno, Pasquale Cutri. C'è un continuum tra l'attività che abbiamo svolto noi a Rosarno che siamo stati i precursori di questa attività di accoglienza degli immigrati che abbiamo trasferito da un ghetto i nostri amici e fratelli africani dove vivevano in condizioni disagiatissime, in condizioni precarie di igiene e sanità. li abbiamo trasferiti in quel villaggio della solidarietà che è un fiore all'occhiello di questa nostra accoglienza. Un villaggio trattato di tutti i comfort, aria condizionata, servizi igienici, cioè un ambiente civile dove questi nostri amici possono vivere tranquillamente appunto come noi in una società civile. Questo evento di oggi a Teoria Noa è il prosieguo, naturalmente con il contributo di Sua Eccellenza il Prefetto che si sta impegnando molto in questa azione di solidarietà, in questa azione di accoglienza. Noi stiamo cercando di dare a queste persone una vita dignitosa e li stiamo accogliendo. Loro sono contentissimi di aver avuto questa accoglienza e loro si sono inseriti ormai nel tessuto sociale con il nostro aiuto e loro stanno partecipando effettivamente alla vita della nostra società. Noi li ringraziamo per questo apporto che loro stanno dando alla nostra società, al nostro lavoro. Tanti sorrisi e tanta gioia soprattutto per chi abiterà nei prossimi giorni e a farsene portavoce è Bamba Bengali in rappresentanza della comunità straniera che ha ricevuto le chiavi del primo modulo abitativo.